A tutta tua, a tutta tua, chi te la tocca? Golla? Mamma, troppo forte Troppo forte Che giocata Mamma, è rimasta lì Ok, bravo Non lo prendi, il busto lo frego io Eh, scusami, eh Ok Sapevo, va bene Torno indietro Rapidamente Indoloramente Mh, chi ha? Eh, l'avevo letta bene, non ho busto però Fuori Mamma mia Let's go Torno indietro Mi fullo di busto, questo è buo Coglione Un coglione Direttamente Guarda Cioè, guarda Fanculo Cioè, lui deve farmi Eh, vada il cazzo Ok Torno indietro Questa È Comoda per loro Non l'ha presa Facile Centrale Medialtezza Nulla presa Va bene così Dai che la vinciamo Torca troia Non l'ho fatta Di pochissimo Eh, ma non l'ho fatta Non è entrata Eh, ma non ce l'ho Torno indietro Ok, presa Non ho busto Tutta tua Deve essere tua Non so dove sei Ok, va benissimo Va benissimo Sono troppo forte Ero messo male Ero messo di merda E l'ho presa Tutto una botta di culo GG per noi Vado Devo farlo saltare Lui ha saltato E no Sono un pagno L'ha preso Lascia buttare Uh Io aspetto solo Questi errori Che mi rendono La vita Facile Come grattare Un gratta E vinci Di ponzi Ponzi Popopon Non mi ricordo nemmeno Quale pubblicità fosse Ti piace Vincere facile? Non mi ricordo Era un gratta e vinci Credo Un gratta e perdi Eh, però Troppo forte Eh, non ho busto Cioè Il mio compare Mi ha fregato Il busto GG Non ha segnato Fuori Mamma che culo Mamma che culo Troppa Ce l'hai Vero? Sì che ce l'hai Pam Va bene Andiamo 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 Vai Morca Ce l'hai Madonna Ma chiudete voi Ma chiudete voi? Eh, lascia Chiudo io Dai Vado? Ok Ok Bampati tutti Bampato il mondo Gli frego pure il busto Ed è gol Bravissimo Ci sta Ci sta Ci sta Ponzi ponzi Popopom Torno indietro Mamma bravo Tutta tua Mi ha pure bampato Il controllo È stato bruttissimo Ma Utile Uh, non è riuscito il pincio Che sfiga Buttare al mezzo Tutta tua Eh, io sono sentito Uh, adesso no Madonna Madonna Ho rischiato tantissimo Ho rischiato tantissimo Con quell'errore nel tiro Ho rischiato di Far perdere la finale Ma l'abbiamo vinta Dai GG GG for us Fake Se un pirla Non so perché Scusami Ce l'avevo facile io Visi Mamma quanto forte Nooo L'ho appena finito di dire Non ci credo Va bene Easy code GG EGG 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 Niente Ce l'avevo anche perché Adesso per compa Minimo Ce l'avevo anche perché Adesso per compa Anche perché Adesso per compa Minimo 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 60 70 euro Ovviamente Ovviamente Essendogli un Un Merda Non mi ha anticipato Non Non Poteva Va bene Magari è figo Non ho preso Non ho preso L'ospite Aspetta Aspetta Uff Io Almeno le otto e mezza Oh mi raccomando Oh mi raccomando Sono veramente curioso di Sono veramente curioso Di sapere Di sapere Questa Questa Università Com'è Buonanotte Elia Buonanotte Poi Poi ti dico Va bene Ma scusa Ma adesso Perdonami Ultima domanda Adesso è periodo di esami In teoria No I primi esami Del primo anno Che esame hai? Cioè Come primo esame Che esame hai? Ne ho sei in un me Oh la madonna Sono un po' esagerato Tecnico di ripresa e fotografia Bello Cazzo E sai che mi ispirano proprio Mi ispirano proprio simpatia Questi Questi esami Cioè che poi magari Sono la roba più difficile Del mondo E però mi ispirano Proprio simpatia Hanno proprio Dei bei nomi Poi i prof sono bravi Meno male Cazzo Sai cos'è Per fare Cioè Per fare Il professore Di una roba Del genere E essere laureato In una roba del genere Vuol dire che sei Come si dice Appassionato Perché È difficile Che tu non sia appassionato Per frequentare Una scuola di una scuola E una scuola del genere Quindi ci sta Di solito No No cazzo 1-0 per loro Sono belli grossi nel settore Addirittura Spettacolo Mi spettacolo Ma chissà quanto costa Come scuola Dovrebbe essere Cioè Bella cara Secondo me L'ho bumpato Ma mi ha fregato Cazzo Ti prego Oh ha sbagliato Ti prego Godo 3k all'anno Vabbè Non sono nemmeno infattibili Non sono nemmeno infattibili Ti dirò 3k all'anno Sono 9k Che poi diventano 15 per 5 anni Come investimento Ci sta di brutto Succa L'hanno fatto bene Pure quello Mi aveva bumpato E io sono spawnato E io non è sarco Considera che è una Delle più economiche Ma perché Tipo parastatale O perché Semplicemente È una delle più economiche Ma perché Poiché altre scuole Ci sono Scusami Di cinema Forse a Roma La scuola di cinema Le belle arti Non so se No le belle arti Forse a Firenze Non lo so Sono tutte private Ok Ma Venom Venom Maria Ma tu I doveri Che non mi ricordo Cioè Di Toscano Che fai Mamma che culo Ah ce l'hai vicino casa Quindi sì Per forza Sono in provincia Di Pisa Aia Pisano Con la torre storta Ti prego Ti prego segna Gran botto Let's go Let's go Proprio questa Let's go Pikachu Ci mette un'oretta di pullman Per arrivarci Ci sta Cioè nel senso Cioè È tanto Comunque Però ci sta Anche io Ci